Ben ritrovati, lettura di Commito al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di mercoledì 2 ottobre 2024 Commento tratto dal sito nellaparola.it Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli È sempre molto difficile accettare negli altri ciò che non riusciamo ad accettare in noi E forse ci è più facile disprezzare negli altri ciò che disprezziamo in noi Ma questo disprezzo non è neutrale, ha delle conseguenze Dio ha messo un custode alla porta del bambino che è in noi Forse è in questa sostanza la festa degli angeli custodi che oggi la liturgia ci fa ricordare La loro custodia non funziona come una forma di assicurazione sulla vita La loro presenza ci fa sperimentare misteriosamente la possibilità stessa della vita Perché quando tu ti senti le spalle coperte riesci anche a camminare davanti a te Se non ti senti le spalle coperte non riesci nemmeno a mettere il passo successivo Un angelo custode non ci è messo accanto per evitarci tutti i pericoli Ma per farci osare la vita nonostante i pericoli Ma questa presenza è utile solo nella misura in cui torniamo ad essere come bambini Dice il Vangelo Cioè viviamo più affidati che preoccupati Sta scritto In verità vi dico Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini Non entrerete nel regno dei cieli Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino Sarà il più grande nel regno dei cieli La semplicità dei bambini Ci fa sentire anche la possibilità della vita stessa Più cresciamo Più ragioniamo troppo sulle cose Fino al punto di convincerci che non ne valga la pena E così invece di andare avanti ci fermiamo Oggi dovremmo forse lasciarci prendere la mano e riprendere il cammino Non siamo soli Non è forse questo il più grande messaggio di tutto il cristianesimo Non siamo soli Siamo di qualcuno Siamo amati A qualcuno interessa di noi Non in maniera distratta Ma fino al punto da dare la sua vita stessa Chi ti ama così È come se ti mettesse addosso sempre quella giusta energia Che ti aiuta a camminare sicuro nonostante tutto Buona giornata E che Dio sia con tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti